il quadro ogni mattina guardo il quadro appeso al muro della mia camera da letto e una parte del ritmo di un nuovo giorno qualcosa rilassante e confortevole una immagine di un futuro da sognare mia madre me l'ha regalato il giorno del mio diciottesimo compleanno è molto antico un cimelio di famiglia niente di anormale in questo tranne qualcosa che mi ha detto in tono cospirativo è fatto di magia ma non devi dirlo agli altri ti mostrerà il futuro è un segreto di grande importanza ho annuito stordita ma non credevo alle sue parole la magia non esiste comunque era un bellissimo dipinto pieno di luce e di gioia mi piaceva tanto qualcosa di costante nella mia vita però stamattina quando l'ho dato un'occhiata dovevo assicurarmi di non dormire ancora perché perché stamattina non c'era luce non c'era gioia il quadro era cambiato e non per il meglio ciò significava che il futuro era cambiato questo non aveva senso perché oggi perché non un cambiamento graduale le cose non cambiano all'improvviso e poi ho visto il telegiornale e non voglio dire che l'immagine sia la verità perché ciò che sto guardando è veramente un incubo